Una volta inserito l'edificio con le modalità illustrate nei filmati precedenti, è possibile impostare il programma per l'export del file XML per il Cened Plus versione 1.2. Per fare ciò è sufficiente nelle impostazioni di calcolo impostare il riferimento normativo della regione Lombardia. In questo modo, dal menu strumenti, si rende disponibile l'opzione Esporta a Cened Plus. Selezionando questa opzione, il programma chiede in varie schermate dei dati, quali per esempio il responsabile, il codice del certificatore e il tipo di ACE da produrre. Premendo avanti si passa alla schermata successiva con la possibilità di scegliere le zone termiche, in questo caso l'unica presente. Andiamo avanti, confermiamo il file da salvare edificio 1D Cened XML, confermiamo con Esporta. Al termine dell'esportazione chiudiamo pure la finestra e passiamo al Cened Plus, dal quale andiamo ad aprire il file con Importa XML. Selezioniamo il file appena esportato, edificio 1D Cened XML, apriamo il file e a questo punto confermiamo le varie videate di inserimento dati in cui troviamo i dati già proposti perché importati da termo CE. Premiamo Salva, confermiamo il metodo di calcolo puntuale. Qui possiamo anche vedere il calcolo delle temperature e degli ambienti non riscaldati che è già effettuato termo CE. Premiamo Salva, confermiamo il subalterno e confermiamo le varie schermate di inserimento dati, quali per esempio gli elementi disperdenti, le superfici di involucro, le superfici degli elementi vetrati. Confermiamo sempre i vari passaggi, qui possiamo vedere le centrali termiche, i sistemi impiantistici, le ramificazioni del sistema impiantistico e l'associazione zone termiche. Arriviamo infine al calcolo vero e proprio, confermiamo il calcolo e quindi arriveremo a questo punto agli indicatori. L'energia termica e l'energia primaria vera e propria con il calcolo e l'inquadramento della classe in cui appunto ricade l'edificio stesso calcolato da termo CE. A questo punto possiamo salvare il file XML e poi caricarlo nel sito appunto della regione.